Buongiorno a una nuova trasmissione di Pianeta Rosso Blu, la trasmissione dei mobiliari Ponzacco Calcio. Qui, dagli studi della mostra del Mobilio, in un angolo appositamente creato per questa netta vittoria al 94esimo contro il Montevarchi, parliamo subito con il vicepresidente Luca Lombardi. Allora, Ponzacco, ultime tre giornate, tre vittorie e nove punti. Sì, effettivamente stiamo riprendendo un andamento, diciamo, più consono alla nostra squadra. Siamo veramente soddisfatti di quello che sta facendo Mr. Cei nelle ultime tre gare, come non poter esserlo quando in tre partite abbiamo fatto tre vittorie. Ma più che altro, come torno a ripetere, è la squadra che si sta esprimendo molto più serenamente, molto più tranquillamente e ovviamente anche i giocatori ne risentono, anche se abbiamo fatto un primo tempo piuttosto contratti. Non eravamo noi, però siamo rientrati in campo con la determinazione giusta per poter battere un ottimo Montevarchi. Tra l'altro questa partita è andata in diretta su Rai Sport+, quindi anche la televisione di Stato ha dato questa vittoria al 94esimo che appunto vedremo tra poco qui a Pianeta Rosso Blu. Grande organizzazione e soprattutto ineccepibile organizzazione. Sì, siamo veramente soddisfatti, credo che abbiamo ottenuto un ottimo risultato di immagine soprattutto perché andare sui canali Rai non è mai una cosa semplice ed organizzarla non è cosa da poco. Però credo che siamo riusciti ad ottenere un buon risultato e questo ci fa veramente piacere come società e penso anche alla squadra che ha anche coronato questo intervento della Rai con un'ottima prestazione e il risultato veramente positivo che ci lancia, speriamo, verso la salvezza tranquilla. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno operato per far sì che questo programma sia venuto bene. Un ringraziamento a te naturalmente che sei riuscito a portare la Rai qui a Ponzacco. Un ringraziamento particolare anche a Stefano Costa che è riuscito ad organizzare un po' tutto e quindi a tutti i membri del Consiglio. Grazie veramente a tutti perché riuscendo e andando su queste programmazioni insomma non è cosa da poco. Tra l'altro vedremo nel nostro special Ponzacco-Montevarchi appunto anche tutta l'organizzazione, il camion della Rai, il satellite e via dicendo come funzionano appunto le trasmissioni di Rai Sport. Volevo aggiungere ringraziamenti appunto i dirigenti chiaramente della Rega Nazionale dei Lettanti, la persona di Andrea Treppiedi che è l'addetto stampa del Comitato Interregionale ma anche e soprattutto tutti i dirigenti e lo staff e tecnico di Rai Sport e più. Rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù tipo un sacco vi vogliamo presentare una squadra veramente eccezionale Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù capolista ti vogliamo regionare ma che festa il comunale si farà Se l'arbitro...